Cari amiche e cari amici, in conclusione di questa playlist ho deciso di ripercorrere un attimo verso un micapi, quello che è stato il contenuto dell'intera playlist, per trarre poi delle conclusioni riguardo alla filosofia moderna. Per fare questo mi appoggerò, avrò come punto di riferimento Emanuele Severino, un filosofo che è veramente un grande, io lo adoro proprio Emanuele Severino e condivido pienamente tutte le sue lucidissime analisi. Allora abbiamo visto che all'inizio della città occidentale la capacità dell'uomo di trasformare il mondo era molto limitata e che strumenti aveva a disposizione l'uomo per difendersi e per salvarsi dall'angoscia che gli provocava l'impermanenza delle cose, l'idea della morte, il divenire del mondo dunque. Ecco, l'uomo reagì a tutto questo attraverso dapprima un'interpretazione mitica, poi abbiamo visto che l'interpretazione mitica si sostituì quella filosofica, infine quella cristiana, per arrivare alla scienza e alla tecnica moderna. E soprattutto negli ultimi 100-150 anni, ecco, le capacità dell'uomo di trasformare il mondo in conformità ai progetti che si prefigge, crescono in modo straordinario proprio grazie alla tecnica. Non ci possono essere confronti col passato da questo punto di vista, perché l'accelerazione che ha preso la dimensione della tecnica è qualcosa di totalmente nuovo e incredibile, tra l'altro. Perché questa velocità è veramente inaudita. Ecco che si diffonde ai nostri giorni un senso di potenza nelle forze che guidano il mondo e le forze che dominano in realtà, hanno il dominio sulla scienza e sulla tecnica, e anche sulle stesse masse occidentali, però, sull'uomo dell'Occidente a noi contemporanei. E questo senso di potenza legato alla tecnica e alla scienza tende a far dimenticare questo antico terrore per la imprevedibilità del divenire, per quella idea dell'impermanenza delle cose, dell'angoscia della morte, che era stata fonte delle grandi riflessioni dell'uomo. Ecco che l'uomo, attraverso la dimensione scientifica e la tecnica, inizia a credersi potente, diventa audace in un certo senso. La tecnica e la scienza oggi, ai nostri giorni, sanno di non essere verità assolute, di non essere verità incontrovertibili, di non essere un termine che utilizza Severino moltissimo, è episteme. Episteme vuol dire una verità incontrovertibile, episteme è una verità che non può essere messa in discussione. Ad esempio, se si mette un bicchiere d'acqua sul fuoco, su un fuoco forte, l'acqua evapora. Questa è una verità incontrovertibile, una verità che non può essere messa in discussione. Quindi ricordate amici, episteme, quando parlo di episteme è una verità incontrovertibile, cioè che non può essere messa in discussione, è una verità assoluta. Ecco, torniamo ai nostri giorni alla scienza e alla tecnica. A differenza di quello che anticamente era il mito nella concezione degli antichi, sembra che la scienza e la tecnica riescano a mantenere le promesse. Abbiamo visto che il mito, perché si sostituì il mito alla scienza? Ricordate, perché il mito aveva perso la sua capacità, la sua forza propulsiva e la sua capacità di placare l'angoscia della morte. La scienza e la tecnica, in realtà, anche essi sono dei miti, come vedremo. Ma qui e ora, oggi, sembrano mantenere le loro promesse e sembrano rimedi efficaci contro il terrore del divenire. E anche l'apparato concettuale della scienza, soprattutto l'astrofisica moderna e così via, non è più come abbiamo visto già, ne abbiamo parlato, la scienza del positivismo di fine Ottocento, che riteneva di lavorare su verità assoluta e incontrovertibile. Ecco, la scienza, concettualmente, l'apparato concettuale, non crede più questo. Sa che ogni scoperta scientifica può essere rivista, rimessa in discussione, e può avere anche una validità provvisoria. Però è rimasto nel sentire comune questo fatto, appunto, è scientificamente provato, come se fosse un dogma, no? E in questa foto potete vedere Emanuele Severino, ecco per chi non lo conosce, questo grande filosofo. E, dicevo, il legame essenziale che il pensiero filosofico unisce all'episteme, dunque alla verità incontrovertibile, fa sì, questo legame essenziale, che la distruzione dell'episteme, quindi il concetto di verità, che non può essere messa in discussione, la concezione dunque di assoluto dal punto di vista filosofico, sia distrutta e, in larghi settori della filosofia contemporanea, si nega che la coscienza e che quindi anche le analisi possano rivolgersi alla totalità degli enti, possano cogliere, ossia, nella totalità degli enti, gli enti sono tutte le cose che ci circondano, e l'antica filosofia, ricordate quando parlai nel primo video di archè, il principio primo, c'era la convinzione che si potesse cogliere un principio unitario in tutte le cose, un principio stabile, dunque un principio identico e unitario in questa infinita molteplicità di differenze, in questa infinita molteplicità di enti. e si era convinti che si potesse cogliere il fondamento e l'origine di tutte le cose. Questo era nella filosofia antica. La distruzione degli assoluti, dell'episteme, del concetto di valore incontrovertibile, fa sì che la filosofia moderna non abbia più avuto grandi apparati concettuali legati al concetto di episteme, al di verità incontrovertibile, e il professor Severini, questo rappresenta veramente un'eccezione ed è per quello che io veramente lo adoro. Dunque c'è la crisi del concetto di episteme, di verità assoluta, di verità definitiva. Il mondo si è frantumato in una infinità di sensi parziali, non c'è più un orizzonte di senso comune e definitivo. Cioè ci sono tante specializzazioni, tanti sensi parziali e provvisori che vengono via via modificati poi in un processo senza figli. Anche la stessa scienza supera se stessa in continuazione, la tecnica non ne parliamo. Compri un modello di computer, non fa il tempo di uscire dal negozio, è già superato quel modello. Dunque non esiste un senso supremo come non esistono più riflessioni sui grandi problemi dell'esistenza che avevano caratterizzato proprio l'intero percorso filosofico e non solo dell'Occidente, in questo caso. La filosofia dunque ha cessato di essere metafisica. Adesso sarebbe lungo parlarne, non posso affrontare l'argomento, ma ci sono state delle correnti filosofiche veramente anti-metafisiche. E dunque la filosofia non cessa di essere metafisica, cessa di essere conoscenza che va oltre l'esperienza. Questa era la metafisica, no? Ciò che va oltre la nostra esperienza comune. Ecco che la filosofia si spezza, dicevo, in una pluralità di teorie particolari, che sono la psicologia, la logica, la riflessione, la critica della scienza moderna, l'epistemologia moderna, la sociografia. E dunque ecco, dal tronco della filosofia, si staccano quelle che vengono chiamate le scienze dell'uomo. E la filosofia, in questo modo, in questa frammentazione, perde via via, progressivamente, il suo carattere specifico, quello che era il suo elemento caratterizzante. Ma questo, poi, anche nell'ambito delle diverse specializzazioni, per esempio la medicina, non esiste più. Ancora c'era, quando ero bambino io, il medico che stava lì, e con un'occhiata ti annusava, ti guardava e era in grado, grossomodo, di capire quello che aveva. Adesso ti inviano da duemila specialisti, se vai con un malessere. C'è stata questa frammentazione. E allora, noi dobbiamo tenere presente di tutto questo percorso che abbiamo fatto, e in particolare del crollo dei valori assoluti e dell'assenza di una riflessione che è riguardante la metafisica nella filosofia contemporanea, ripeto, tranne in eccezione come il grandissimo Severino, però per fare una riflessione filosofica sulla filosofia attuale dobbiamo tener conto di tutto questo. Ecco che il futuro della filosofia non può essere pensato indipendentemente dal futuro della civiltà della tecnica, e qui sono strettamente legati. Per questo, poi, non solo il professor Severino, ma anche Heidegger, lo stesso Spengler, Junger, si occuparono proprio del mondo della tecnica, perché non si può separare la filosofia dalla civiltà della tecnica. Oggi la scienza e la tecnica ci dicono che riusciranno a risolvere tutti i problemi che sinora avevano angosciato l'esistenza dell'uomo. Oggi sembra che questo apparato scientifico, tecnologico, che ho analizzato nel video precedente, abbia ormai preso la strada che ci condurrà alla soddisfazione dei bisogni dell'intera umanità, sia dei bisogni materiali, sia dei bisogni spirituali. Ed ecco che si intravede l'orizzonte che ci offrono questa scienza e questa tecnica. si proietta una società da realizzarsi sulla terra, una sorta di paradiso che come abbiamo visto e come ci ha indicato anche Nietzsche, il cristianesimo, le altre forme di religioni avevano posto in un al di là. Ricordate, Nietzsche, siate fedeli alla terra. Ecco che la promessa della scienza e la promessa della tecnica è quella di portare questa sorta di paradiso nell'al di qua, proprio attraverso la liberazione dall'angoscia che ci può dare la medicina, che ci può dare la tecnica. E allora è il caso di guardarlo, di affrontarlo, di vedere un po' se questo paradiso della scienza è autentico o in realtà non ci troviamo di fronte a un altro di quei paradisi di cui ci parlava Nietzsche. non ci sono motivi per escludere che scienza e tecnica possano un giorno liberare l'uomo dai bisogni immateriali e anche allontanare l'angoscia della morte. però dobbiamo vedere che in questa dimensione della scienza e della tecnica ci sono in realtà una disumanità, c'è un'aridità, c'è una ottusità che rappresentano veramente un pericolo per il presente. quindi se lasciamo stare queste promesse di un futuro paradiso scientifico e guardiamo ciò che sta accadendo oggi nella scienza e nella tecnica vedremo che ci sono degli aspetti inquietanti. Oggi è largamente presente la consapevolezza che una contrapposizione tra cultura umanistica e cultura scientifica non ha più ragione di essere come era un tempo. Dunque ecco che gli scienziati coloro che alla O di Freddi propongono questo paradiso della scienza che soddisferà tutti i bisogni dell'uomo quello di appagare ogni tipo di bisogno e di soddisfare ogni tipo di bisogno e dunque in un certo senso liberarci dalla più radicale angoscia e dal dolore ecco ci sono queste promesse ancora da parte degli scienziati che ci propongono questo paradiso della scienza e questo paradiso della scienza ovviamente non può che fondarsi sulla logica della scienza ma questo è ovvio e la logica della scienza però attenzione perché questo è il punto da cui comincia realmente la nostra riflessione il paradiso della scienza abbiamo detto si fonda necessariamente sulla logica della scienza perché è la scienza ad offrirci questo paradiso ma la logica della scienza attenti amici è una logica ipotetica la logica della scienza oggi non è più quella degli scientisti di fine ottocento del positivismo di fine ottocento la scienza sa perfettamente che non si può oggi presentare come episteme come verità definitiva e incontrovertibile e cosa vuol dire questo? che per quanto elevata e crescente la felicità del paradiso della scienza è ipotetica è teorica e dunque può presentarsi da un momento all'altro come illusoria esattamente come ogni altra teoria ed è inevitabilmente accompagnata da questo tipo di consapevolezza gli scienziati ci propongono questo paradiso della scienza attraverso la scienza e la tecnica la lunghezza della vita la cura delle malattie la diminuzione dell'angoscia della morte ma nello stesso tempo è inevitabile accompagnare questi ragionamenti dalla consapevolezza che questa è una logica ipotetica proprio perché non si fonda più sull'epistema su una verità definitiva ed incontrovertibile e allora ecco che il paradiso della scienza è inevitabilmente privo di verità proprio perché è la scienza stessa che proponendosi non più come un assoluto come una verità incontrovertibile è la scienza è la scienza stessa che si presenta come priva di verità in realtà proprio perché la nostra intera cultura ha abbandonato da tempo sia la metafisica che la pretesa di conoscere la verità ecco che l'imprevedibilità in realtà torna a farsi angoscia e anzi spinge al punto più alto l'angoscia in realtà perché ora quello che il divenire può ottenere in serbo è il naufragio del paradiso il divenire può portare al naufragio del paradiso e dunque ecco al di là dei paradisi teorici della scienza questo adesso non lo conosciamo ma lo sapremo della tecnica questo adesso ancora non riusciamo ma lo risolveremo questa volontà di potenza in fondo contenuta nella scienza e nella tecnica tutto ciò è alla radice una logica ipotetica la scienza abbiamo detto non si presenta come episteme non si presenta come verità assoluta e dunque necessariamente è una verità indivenita e abbiamo visto sin dalle origini della riflessione che portò l'uomo alla mito poiesi cioè la creazione del mito poi successivamente alla filosofia e così via che proprio questo senso del divenire legato alla trasformazione all'impermanenza delle cose è all'origine del senso dell'angoscia dunque come diceva Nietzsche il rimedio è peggiore del male il rimedio della scienza fallisce anche il rimedio della scienza inevitabilmente fallisce perché è legato a questo senso del divenire è ancorato a questo senso del divenire non può più presentarsi come verità incontrovertibile e quindi non può donarci sicurezza e certezza rispetto all'angoscia della morte allora fino a questo punto la filosofia come evento sociale è destinata a non mutare attualmente ha il compito di proteggere il divenire da incursioni dei ritorni della tradizione è uno degli elementi che caratterizza la filosofia la filosofia dell'antica tradizione non vuol sapere niente ci sono scuole che si sono fatti scherno della metafisica e sentite se vi capita le conferenze di Odi Freddi sulla metafisica parla dei metafisici siccome se fossero degli imbecilli è tutta la storia della metafisica sembra tutta fondata sull'imbecillità sentite le analisi che fa Odi Freddi ecco che con questo tipo di atteggiamento gli scienziati proteggono il divenire anche lo stesso Di Freddi hanno fatto che proteggere il divenire da queste incursioni da qualsiasi ritorno della tradizione e il divenire è disponibile scusate all'azione scientifica e tecnologica ecco la promessa del paradiso della scienza il paradiso della scienza è un paradiso inevitabilmente fittizio perché come ho già detto non è ancora alcuna epistema alcuna verità incontrovertibile e dunque necessariamente necessariamente questa angoscia legata al divenire si ripresenterà in maniera in maniera imponente l'angoscia è facile vedere da tutto il percorso della storia e da dove ci stiamo orientando arriverà a diventare insopportabile ed ecco allora che la filosofia potrà tornare ad avere un suo ruolo perché la filosofia arrivata a quel punto si troverà di fronte a un biglio o si rivolgerà nuovamente alla verità della tradizione epistemica occidentale ed è questo che in fondo fa il il professor Severino quando ci dice che che gli enti sono eterni la riproposizione di una realtà metafisica iniziò tra l'altro il professor Severino tutto il suo percorso con un saggio era giovanissimo era una sorta di ragazzo prodigio intitolato il ritorno a parmente e dunque ecco o la filosofia di fronte a questo bivio del divenire e alla riproposizione dell'angoscia del divenire si rivolgerà nuovamente alla verità della tradizione epistemica di quella tradizione che ci proponeva dei valori assoluti e che è anche l'intera tradizione dell'Occidente fin a Nietzsche praticamente e in alternativa di questo bivio la filosofia comincerà a mettere in questione lo spazio che aveva portato anticamente alla luce il pensiero greco e in cui in realtà è cresciuta l'intera storia dell'Occidente fino all'avvento del paradiso della scienza ossia quello spazio che è in comune sia a quella che è l'evocazione degli immutabili sia alla distruzione degli immutabili sia al paradiso della scienza ossia lo spazio costituito dalla fede dell'esistenza del divenire perché è proprio da questa concezione dell'esistenza del divenire che è una fede anch'essa l'esistenza del divenire e da questo senso del divenire che poi si sviluppa l'intera storia dell'Occidente e allora ecco ripeto cosa farà la filosofia rispetto a questo bivio se questo paradiso della scienza ci porterà e si rivelerà illusorio come sarà perché inevitabilmente non è un assoluto non è un immutabile quindi in questa condizione di perenne divenire ci ricomunicherà nuovamente angoscia e quando l'angoscia diventerà insopportabile quando l'uomo si troverà di fronte a questo bivio riprende la tradizione degli assoluti eh oppure oppure legarsi a questa dimensione distruttiva del divenire ecco questo è il punto essenziale questo è il punto essenziale questo è il punto dove la filosofia dell'Occidente si muove in questo momento la filosofia dell'Occidente ha come caratteristica che il professor Severino l'individua perfettamente che le cose escono dal niente e ritornano nel niente eh e questa dimensione che non è altro che legata alla dimensione del divenire delle cose che escono dal niente e ritornano nel niente è la dimensione dell'angoscia e allora ecco la grandezza ad esempio del professor Severino eh la grandezza di un legame con la tradizione per cui il professor Severino tutta una un apparato concettuale interessantissimo anche molto complicato sotto alcuni aspetti il professor Severino si può riassumere in una frase gli enti sono eterni cioè gli enti sono tutto quello che ci circonda eh e il professor Severino è affascinante ecco che il ritorno a Parmenide l'essere la riaffermazione dell'essere ecco in conclusione l'uomo va alla ricerca del rimedio contro l'angoscia del divenire innanzitutto perché crede che il divenire esista il professor Severino è un grandissimo perché nelle sue analisi mette in discussione il divenire quello che per nella in occidente è dato come un dato scontato adesso il senso del divenire eh la stessa filosofia ho detto appoggia e questo senso del divenire e ci sono tutte una corrente filosofiche in particolare quelle chiamate le analitiche del filone di lingua anglosassone che si oppongono proprio a qualsiasi valore assoluto e difendono questo senso del divenire che non è altro che quello che provoca angoscia il professor Severino è uno dei pochissimi che invece mette in discussione il senso del divenire e ci mostra che il senso del divenire è una fede è anch'esso una fede non è una verità incontrovertibile come si può pensare e che cos'è la fede la fede non è altro che il volere che una determinata visione delle cose sia in un modo invece che in un altro la fede è quella che ci dice ad esempio fede nella provvidenza che tutto è giusto che tutto è volontà di Dio e per il bene dell'uomo questa fede è quella che mi porta quando c'è un terremoto e muoiono dei bambini che pregano in chiesa è quella che mi porta a dire ma non capisco qual è il bene però so che c'è il bene dell'uomo anche in questo atto del terremoto che uccide i bambini perché ho fede in Dio e dunque ecco che la fede è un voler vedere la realtà in un modo invece che in un altro va bene perché chi ha ad esempio fede non in Dio ma ha fede nel materialismo potrebbe vedere tutt'altro nell'episodio del terremoto che uccide dei bambini ecco che lo stesso Severino fa un'interessantissima analisi e approfondisce anche il senso della fede il professor Severino con il suo concetto gli enti sono eterni ci propone un rimedio per l'occidente contro l'angoscia del divenire e va controcorrente perché appunto tutto l'occidente tutta la filosofia la gran parte della filosofia la stragrande maggioranza il messaggio che ci dà è che è riguardo alla esistenza del divenire non si mette in discussione il divenire e neanche per Nietzsche il superuomo sente il bisogno di un rimedio e un riparo contro il divenire la filosofia è una filosofia del divenire il superuomo nicciano è colui che si abbandona e affronta questo divenire si abbandona questo flusso e lo accetta nella sua totalità quindi neanche il grande Nietzsche e la soluzione del superuomo nicciano sente il bisogno di di porre riparo contro questo divenire però Severino ci propone un senso radicalmente diverso di questo superuomo e di questo oltre uomo e ci dice che quando ci si libera dalla fede del divenire e dunque dall'angoscia che essa produce perché il divenire porta necessariamente alla impermanenza delle cose e al processo di morte continua delle cose e quindi all'angoscia ecco che quando ci si libera dalla fede nel divenire ci si libera anche da un bisogno di costruire un riparo contro questa stessa fede del divenire perché non si non si riconosce più la realtà del del divenire ed ecco in conclusione secondo quella che appunto è la mia esperienza di vita il senso anche del mio canale il decimotoro e sono convinto amici che l'unico rimedio reale contro questo divenire sia la meditazione e il ritorno al centro il recupero del centro l'essere qui ed ora e dunque perdonatemi se concludo questa lunga playlist con una mia riflessione con parole che sul mio canale avrete sentito dire decine di volte la pratica la pratica la pratica la vera filosofia sia vista come filosofia amore per la sapienza come l'etimo comune sia come anche legata al concetto di safè di portare alla luce come ci dice il professor Severino ecco in tutte e due casi sia come amore della sapienza sia come portare alla luce sono legati al nostro vero sé a questa nostra realtà che ci mette in comunione con il tutto ed è lì che dobbiamo radicarci un caro abbraccio a tutti Marco Cosco Cosco